Ciavetta, film, serie, musica La lingua, ma alla presenza di un uomo Avanti, lo teni a pevo, mi ricomando Finalmente, e lo zoo sarà il nostro esattamente fra tre Sul serio, bro? Che ci mangiamo? Patate fritte a palla? Adoro le patate Burattino e legno Non sono un burattino, sono un ragazzo vero Cinque scellini per il giocattolo e il demoniato, portatelo via Il prossimo, che cosa avete? Per l'ultima volta, tesoro, non ci sono pirari Ehi, chi è a me? Giovanotto, dico sul serio Ho detto re, tu diventerai re Tu diventerai re? Sì, certo Dove credi di andare? Molto, molto lontano Da te Torna qui, giovanotto, dico sul serio È il deposito delle armi dove tengono i fucili E la polvere da sparo Senza le loro armi sono deboli e difesi Attimo lavoro Ora è il ragazzo È da scemi Ah, tu sei scemo Ora, dacci sotto Questa è la nostra via d'uscita Faremo dei manifesti? No, quello sul manifesto, Papa Quello sul manifesto Ce ne andremo volando Avanti, lo tenga fevo Ti raccomando Ti raccomando Ti raccomando Ti raccomando Ti raccomando Allora io ho paura Non lo sapete Che paura Se vuoi avere un'iniezione Non devi avere paura Puttate un occhio Schermo di wallplasma da 60 pollici Con 6 Dico 6 casse su round Spy, DVD, Playstation E un video di tutto Stareotto Però per quei giorni In cui ti senti un tantino Vecchio stile Forza Tu sei stato Un bel botto Ti fa via lambiare Mamma Cos'è che ti fa agrabiare? Tornare diake Un'altra volta E facciolo spiegare Ma questa Sarabbia Che puoi fare Dovevo sapere Come si vede queste cose, no? Sì, va bene, non capace. Ha contato sempre di allino. Il culo, te le devi mettere nel culo. Chiaro adesso? Caglio, hai capito? Ah no, ti ho detto che sei in calzava. Ah, di signor, signor? Mi chiamo Rocky, Rocky lo sterminatore di Bulby. Bulboa per voi. Rocky Bulboa? Fa bene. Ehm, signor Bulboa, è lei questo? Avanti, lo tenga pevo, mi raccomando. Chiara che c'è l'ira? E' solo la pistola. Mi accetta la legge di chiare un periodo di attesa di cinque giorni. Dobbiamo fare un controllo dei suoi precedenti. Cinque giorni, ma io sono arrabbiato adesso. Ti ammazzerei se avessi la mia pistola? Sì, beh, non ce l'hai. Forza, mettetemi tutti quanti, rega. DJ, è l'ora della verifica. La verifica di cinque giorni, è l'ora della verifica. Io ho una peggio ora. Nessuna attora. Sto sola. Tu lo pensa. Dima che fai. Dima che stai. Io ricerco. Ti giuro. Il loro dato è bello e ce ne so. Grazie a tutti.